Non mi preoccupa di tre quarti spade avanti, mi preoccupa di tutto l'equipo in generale. Ma non è solo in attacco che mi preoccupa il Dortmund, ma per tutto il campo in generale. È veramente una grande squadra, ha vinto la Bundesliga due volte di fila e sono primi nel girone più difficile della Champions. Sì, è un gruppo duro, ogni punto che fai va bene, ma ogni punto che perdi va male e ogni squadra alla fine è a rischio. Noi e il Borussia magari stiamo messi leggermente meglio, ma Ajax e Manchester City possono ancora far punti nelle tre restanti gare del girone e complicarci la vita. È un gruppo godibile comunque, proprio perché è difficile, ma allo stesso tempo siamo consapevoli di essere tutti quanti sotto pressione, proprio perché sappiamo che ogni sconfitta può cambiare il corso degli eventi, può complicarci la vita.